Il rimbalzo che arriva dall'Inps nazionale trova la sua onda lunga anche nel retino, definirlo effetto del job act forse troppo anche perché il provenimento per lo più interessa le grandi imprese. Visto che il tessuto economico retino offre un quadro differente, è ancora presto per capire se i numeri stiano dando ragione alle scelte fatte dal governo, ma il numero è inconfutabile. La ripresina c'è e lo si capisce dalle richieste di assunzione che sono giunti in queste ore nella sede provinciale dell'Inps. Per la prima volta dal mese di gennaio si registra un'inversione di tendenza. Sono 715 le imprese che hanno presentato domande per contratti a tempo indeterminato nella nostra provincia. Oltre che alla nuova legge sul lavoro non bisogna sottovalutare gli effetti legati alla cura Draghi. La liquidità immessa nel mercato europeo ha avuto le sue ricadute anche nel nostro contesto e a questo dato si aggiunga la variabile decontribuzione che consente alle imprese di avere una maggiore facilità nell'assumere le persone. Il job acta riguardo consente una facilitazione notevole in questo senso e le imprese pare abbiano colto il messaggio lanciato da Palazzo Chigi. Non c'è solo l'effetto Melfi inteso come Fiat ma anche le nostre imprese hanno la possibilità di assumere grazie agli sgravi inseriti nel cosiddetto contratto triennale con tanto di tutele crescenti. Un fattore che nel prossimo semestre dovrà essere monitorato con attenzione. Del resto questa è la partita decisiva e anche nel nostro distretto le scommesse da vincere sono tante.